Prorogate dal prefetto di Vibo Valencia, Guido Longo, le commissioni di accesso agli atti in tre comuni del Vibonese, al fine di accertare eventuali infiltrazioni mafiose. Ulteriori tre mesi di tempo, dunque, per i commissari insidiati ad agosto e dal lavoro nei comuni di Briatico, San Gregorio di Ippona e Limbadi. Si tratta di 30 locali che hanno rinnovato i rispettivi organi inattivi in tempi diversi. A Briatico è sindaco dal maggio del 2014 Andrea Niglia. Dal settembre successivo è eletto anche presidente della provincia di Vibo. A San Gregorio di Ippona, dal 2014, è invece sindaco Michele Pannia, mentre a Limbadi, dal giugno 2015, è primo cittadino Giuseppe Morello. Si tratta di 30 locali che hanno già conosciuto lo scioglimento per infiltrazioni mafiose. Due volte a Briatico, nel 2003 e nel 2012, una volta a San Gregorio di Ippona, nel 2007, mentre nel lontano 1983 il comune di Limbadi è stato sciolto da autorità dall'allora presidente della Repubblica, Sandro Pertini, poiché figurava fra gli eletti in Consiglio Comunale Francesco Mancuso, il patriarca e fondatore dell'omonimo clan. Fra tre mesi, dunque, le relazioni delle tre commissioni di accesso agli atti approderanno sulla scrivania del prefetto di Vibo, Guido Longo, il quale dovrà poi inoltrare le risultanze al ministro dell'interno, Marco Minniti, che valuterà se portare in Consiglio dei Ministri la proposta di scioglimento dei tre comuni per infiltrazioni mafiose. Giuseppe Baglivo per la CNews24.